ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi in collaborazione con ms e konami che mi ha dato l'opportunità di aprire insieme a voi questo structure deck delle divinità egizie obelisk ma andiamo subito a vedere e ragazzi un po mi piange il cuore aprirlo perché è veramente bello però piangerò anche quando aprirò questi e quindi si fa ma andiamo subito a vedere cosa contiene questo structure deck no niente raga se sventra e basta allora abbiamo il playmat che riprende da una parte lo structure deck di obelisk e dall'altra quello di slifer diciamo che mi sarebbe piaciuto giocare il mazzo di slifer ma va bene allora qua tiriamo fuori le carte allora apriamolo e andiamo a vedere che carte contiene allora ovviamente abbiamo obelisk il tormentatore che raga che io volemo di è figo per essere figo basta mettiamolo qua poi come altre carte abbiamo incrocio di anime è uno dei supporti nuovi pugno del fato evoluzione divina poi come super abbiamo muro resisti livello angelo 01 mare mare la ristampa e uh bellissimo lo spolverino è super cavolo tanta roba bellissimo questo poi tra le comuni abbiamo l'agile momonga bazoo il mangianime cyber drago un'altra agile momonga la terza agile momonga drago armato temperato crescetto gigante super agile mandragola branco malvagio tigre fotonica 2 ok salamandra branco malvagio ovviamente credo tre discepoli dirà 1 2 ovviamente tre discepoli poi drago smascherato l'agile castoro strega condannata gizmec uca la festosa volpe della fecondità ottima ristampa anche questa gizmec makami la feroce fortezza con zanne controllo della mente mostro e suscitato carina come ristampa differente capsula dimensionale giara dell'avarizia doppia evocazione calice proibito lancia e pure l'abito proibito poi abbiamo squadra di rifornimento tempesta avanzata dei monarchi richiamo del posseduto clonazione e per concludere forza riflessa annegante poi carte per due links poi roba promozionale bene adesso monto il mazzo e vi spiego le carte nuove bene ragazzi allora ho bildato il mazzo adesso vi porto la lista economy del mazzo obelisk allora ovviamente immancabili il playset di obelisk ovviamente carta op boss del mazzo intargettabile non c'è altro poi il 3 per di discepolo dirà fortissimo perché tiro il primo importa gli altri due poi con doppie evocazioni tiro subito l'obelisk e sinceramente male non è unito e discepoli poi il 2 per della strega condannata perché durante il turno del mio avversario posso bandirla ed evocare un mostro fatto dal mazzo di livello 4 quindi porto il discepolo che mi porta gli altri due come altro reparto da giocare abbiamo il reparto bestia con 3 criceto gigante super agile che quando si scopre posso evocare specialmente un mostro bestia di livello 3 o inferiore quindi abbiamo sia il playset di agile momonga che il 2 per dell'agile castoro che mi porta l'agile momonga e per concludere doppio gizme cucca la festosa volpe della fecondità che è un 2.250 e mi entra special poi passiamo alle magie abbiamo il nuovo supporto in croce di anime in 3 per fortissimo perché posso tributare tre mostri del mio avversario e tirare l'obelisk poi due doppia evocazione doppia tempesta dei monarchi sempre per tributare i mostri dell'avversario doppio controllo della mente doppio calice che è serciabile grazie alla strega condannata e poi un po di mono per che sono mostro risuscitato già dell'avarizia e spolverino dell'arpia super raro che è tipo la cosa più bella del mondo e per concludere tra le trappole abbiamo 3 richiamo del posseduto 3 riflessa annegata e 2 clonazione che mi tirano un token quando l'avversario evoca normal o per scoperta quindi onestissimo e va bene ragazzi questa è una lista molto spicy carina simpatica da giocare però adesso la andiamo a testare ovviamente non lo vedrete in questo video ma più tardi uscirà un altro video con toda che gioca al deck di slifer ovviamente ne troverete uno sul mio canale e uno sul suo ringrazio ovviamente come sempre con anni ed ms 20 per avermi fornito il prodotto e noi ragazzi ci rivediamo più tardi con un nuovo video ciao a tutti